Giù le mani dalla scuola! Giù le mani dalla scuola! Giù le mani dalla scuola. Come genitori e responsabili della formazione delle nuove generazioni non possiamo più stare zitti. Giù le mani dalla scuola. Protestiamo per dare voce ai bambini che da un anno a questa parte si sono sentiti dire la scuola riapre tra poco, la scuola non riapre più. Disinfetta le mani, metti la mascherina, provati la temperatura, non scambiatevi abbracci, non scambiatevi la merenda, non stare troppo vicino ai tuoi compagni, rispetta le regole. I bambini hanno sempre fatto tutto questo con serietà ed entusiasmo. I bambini non hanno nessuna colpa e nessuna voce. Ma in nessuna galassia è umanamente accettabile avere i centri commerciali aperti e la scuola chiusa. Giù le mani dalla scuola. Siamo i genitori e siamo il capolinia. Il nostro futuro viene prima di tutto. I bambini sono il nostro futuro. Mettiamoli in cima a tutto. Giù le mani dalla scuola. Giù le mani dalla scuola. Come bambini privati del luogo di istruzione e socializzazione non possiamo restare zitti. Giù le mani dalla scuola. Siamo i bambini. Siamo delusi, affratti, preoccupati, frustrati e arrabbiati. Il nostro futuro viene prima di tutto. Noi bambini siamo il futuro. Giù le mani dalla scuola.